Abbiamo un'eleucoma, qui, dopo aver venuto da un ulcero per il contatto di lente. Qui posso capire l'eleucoma, ma qui posso vedere il quale è profondo e la forma. Assumendo che voglio fare un PTK, testare il paciente, non c'è necessario perché la superficie è molto regolare, il depo è consistente, ho dovuto fare la cornea più leggera, senza un'utilità, perché la qualità superficie è buona. Qui c'è un altro caso, un altro ulcero cornea indubbia un terribile flattamento e un coma. Ma se ho evaluito questo tessuto, posso capire che il tessuto di salute è molto lungo. Questa è la scala, l'epitennio è leggero non soltanto. Se voglio farlo regolare, ho dovuto ridurre troppo tessuto. Quindi, mi muovo questo paciente a una scala. Questa è la capacità di questo sistema di direttamente in un'eleucoma estremamente avanzata. Se vuoi direttamente la scala. Questa è la scala, quale è la scala reale, quale è la scala reale? Quale è l'epithelium, quale è la scala? Per esempio, qui sarà quasi impossibile, perché in un'area è solo scala. Quindi, è molto difficile che il babbo possa diseggerire l'endothelium da la scala. Se ho avuto un problema rimane, la babbo è prevedibile. Ma ogni scala è molto difficile. Quindi, devo share con il paciente. Questo sarà un problema semplice. In altri casi sono leucoma. L'impacto sul viso acutico è visibile sulle ringe. e qui posso fare un'analisi del tessuto. La corneal opacità. Qui lo vediamo principalmente sull'epithelium. E qui vediamo che è molto superficiale. Qui c'è una scala. Qui c'è una scala. Questo paciente ha avuto la scala di anni fa. Io posso capire di quanto riguarda l'angelo. Io posso capire la scala reale. 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 Ii posso combinarli anatomici. Con la scala reale. Con la scala reale. Con la scala reale. La scala reale. La scala reale. E posso vedere che tutto è molto superficiale. Solo il pulito della membrana basale. È sufficiente. Per rinforzare il paciente. La scala reale. La scala reale. La scala reale. La scala reale. E' impossibile. Qui. Per rinforzare tutta la opacità. Perché alcuni sono molto profili. Ma ci sarà sufficiente. Per rinforzare il tessuto. Ma in questo caso. Le ringe. Mi dicono. Che non c'è bisogno. In short term. Perché le ringe sono molto buone. Quindi la qualità è ancora buona. La scala reale. Perché l'epithelium. Si può compensare la irregularità. Quando l'epithelium. Si può compensare la irregularità. La irregularità. Si può essere exaustata. E' il momento. Per una terapeutica. Azzurri. La distrofia. È un altro esempio. Qui si può vedere. Il salzman. E qui si può vedere. Che è facile. Per questo distrofio. Per essere pulito. In prima. Questo è il paciente. Con un altro. Salzman corneal. In un punto. Con un punto. Con un punto. La distrofia. Con un punto. Con un punto. Con un punto. Con un punto. un'immagine di LAM e potete vedere l'alternazione della scuola. La post-keratoplastia. La post-keratoplastia potete condividere le scuola, i valori di acce, i valori più accurati e i map epitheliali. Vedete la differenza tra un PK e il PK. Potete vedere che la forma posteriore non è sempre regolata, mentre se compare con il Dalk il tischio è inserito dentro del host grasping come, come vedete, è nesta perfettamente, quindi sarà difficile avere adeccion. Qui c'è stride, vedete molto bene, qui, quindi per il tempo dovete aspettare un'immagine locale. Questo è un Dalk il giorno dopo la scuola. Potete vedere il rimane del tischio periferi e potete vedere le stigioni graspendo il tischio e induce la stigmatizzazione. Questo è il primo sign anteriori, il primo sign posteriori, ma se vuoi giudere la superficie anteriori prima di iniziare la compensazione dell'epithelium dopo la scuola. Dopo la scuola, avere l'epithelio aiutare l'epithelio aiutare, dopo la corretta laser visore le regressioni causate, perché l'epithelio hyperplasia explica a voi quanto è il dry eye perché l'epithelio fa l'epithelio quindi quando hai una buona terapia sull'epithelio sull'epithelio si vedrai che l'epithelio diventa più profondamente edifici la possibilità di ablazione perché quando hai bisogno di vedere qualcosa in questo tipo di patient devi evalui quanto è la stroma non la totalità perché a volte l'epithelio viene da una grande profondità dell'epithelio l'epithelio può essere 180 microns e quindi l'epithelio sembra sick ma non è così sick e comprendere i sintomi oculari vediamo un esempio l'epithelio l'epithelio è gradata da settore e questo è molto interessante ora un paciente normale abbiamo un lato normal epithelio il stromal e il tromal il tromal subclinico il tromal che l'epithelio diventa non homogeneo quando l'epithelio progressa tanto qui vedete il stromal e il tromal il tromal il tromal potete avere un tromal e il tromal e il tromal potete capire se il tromal l'epithelio corrisponde alla più stiglia alla più elevata il tromal quindi potete capire la relazione tra tutti l'epithelio l'OCT l'OCT aiutano dopo la cross-linking a valutare la linea la linea non è la prevedizione di efficienza ma si dice se lo facciate bene se avete l'execzio standard resident potete aspettare che l'epithelio dovrebbe arrivare almeno 300 micro quindi se l'epithelio non soccano il corno il corno non soccano il corno l'epithelio avete il corno del corno phicomossificazione cosa vedete l'epithelio 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 e l'epithelio vediamo un esempio c'è una l'epithelio 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 vedete un giorno per stop vedete il corno però una distanza 10 giorni dopo stop, vedo chiaramente la scelta. Quindi, per esempio, qui posso capire l'edema perché la scelta che non è aperta nel dapso significa che la stroma è esposa alla acqua, non è l'endotelio. E potete vedere chiaramente la forma che il femtosecond laser dà, il triplano del femtosecond laser. Questa è una incisione corneale manuale, che è molto differente perché hai una scelta in la incisione manuale. Poi, potete avere, se combini questo sistema con un altro instrumento di CSO, che è il paramis di Osiris, dipendendo su cui è il nome del brand, potete capire quanto è la aberration, per ocular, total aberration solo anterior e posterior cornea insieme, e all'interno. Quindi, quando arrivi alla difficoltà di diagnosi, diciamo, questi pacienti dove abbiamo aberration, vediamo che la cornea non ha aberration, tutto è in cristalline. per esempio, in questo paciente ha perduto la acuità visuale, potete capire che la causa è la luce, anche se è ancora trasparente. Ma inizia a vedere l'aberration, che è crescendo molto prima, l'opasità. cornea e distrofia lesione, la profondità e la cornea o scar. Vediamo un esempio. Qui parleremo dell'esperienza che abbiamo con il nuovo topografo e tomografo di CSO che è un'Italiana in Florence e abbiamo esperienze con altre OCT quindi se vuoi chiedere una domanda in comparazione, perché abbiamo l'Ontarion di Heidelberg, l'OptoView, l'Ontarion 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 e l'Ontarion e l'Ontarion l'Ontarion è l'Ontarion 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 e l'Ontarion 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 sei l'Ontarion 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 prima di iniziare ho i miei consultorio per Oclus NIDEC l'Ontarion solo in tempo c'è un'ottima frase che dice se non puoi essere in tempo puoi essere fuori questo è il sistema sai che molti sistemi usano l'infrared light questo significa che puoi andare sull'opasità ma ovviamente andare sull'opasità significa che non puoi evaluare la trasparenza con la guardia con la guardia con le immagini perché sono evaluati l'infrared non sono visibili l'infrared light quindi la scuola visibile la scuola visibile la scuola visibile l'infrared light c'è un altro punto la lunga di questa radiazione 8400 è qualcosa di in giro il sistema ha un'attività più lunga la scuola ha un'attività più alta risoluzione nel seguito l'infrared light scone e la scuola non perdita in iris e l'infrared light e così questo è un compromiso e la scuola è 16 mm molto grande ma la maggior parte del sistema ha solo la scuola la scuola la scuola la scuola la scuola è anche il plasido disc questo è utile perché se vogliono avere un'idea di quale è la superficie della cornea la qualità della superficie bisogna il plasido disc perché con la scuola non vedete il film ma la visibilità del paciente è una combinazione di tir film epitilium cornea e tutto tutto quindi non underestimate quanto importante è il plasido disc in questo sistema anche perché può introduire molte aggiornamenti con un'intero con un'intero segmento con un'intero la scuola con una corneal lamellare transplante può vedere the whole anterior segment from front to here and arc step resolution give a better representation of everything so we have one image that is coming from 1600 scan over 60 millimeter in it is average so averaging means increasing somewhere resolution so if one image as noise averaging the noise is being reduces so much we have 15 section over 60 millimeter and the anterior chamber 3d is the construction and this if you combine the OCT the Placido then you can get the map now let's see something that is very important that many systems do not have is the editing because by normalized do not need editing but sometimes in very difficult times the system is not able to track exactly for example where in in the scar where is epithelium or the scar so the editing that is very easy to proceed they allowed you to understand extremely complex cases we have also the thickness map if we make a zoom in this area we can see the epithelium the Bowman very clearly so it's very interesting for example for dystrophies where you find for example the basal membrane dystrophies you can see very clearly because the resolution is very good and so you can have on the sickness map how much is the epithelium on it why that is so important because for example in keratoconus patient the epithelium becomes thinner to the apex and steeper and thicker in the mid periphery around the cone if it was very difficult to differentiate the tissues questions how do you use usually your tomography what is the most frequent use in your clinical practice or tomography for you laser someone is someone is yes 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 that is a poor dog predescemetic dog with a lot of tissue behind is not a good outcome post-refractive surgery you can understand the cause of regression from epithelium because epithelium compensate or epithelium stroma interface can induce interface defect and loss of best corrected visual acuity let's see example in this interface you can see here there is a lot of irregularity this patient cannot see well this patient can see well but a very obvious small optical zone and you can see the epithelial compensation and the periphery and the thickening of the epithelium where you try to compensate for the irregularity of the transition zone that is a fentolesic the fentolesic was not that regular they ablate too much tissue and so you can evaluate that the remaining health is trauma is 286 micron then in the ulcer you can after ulcer you can see how much the epithelium try to compensate or in corneal edema you can evaluate in this patient is it possible a dog probably yes if predescemetic dog but will be very challenging and you can share with the patient because the real healthy tissue behind is very thin that is a ingrow of epithelium under a lesic flag and you can clearly see the thickness of the layer so if you try to fix it by laser yag laser you can evaluate the day after how much was successful that is a lasik with a bottom hole you can see here the shot and you can see clearly how it is small optical zone lasik small optical zone here you see the lasik flap was very thick 180 in one meridian and 250 in the opposite quadrants so it was a manual a mechanical flap that usually is thinner at the entry and becoming very sick at the very end so in those cases for example re-lifting the flap to retreat is dangerous because the residual bed in one quadrant is much thinner Haze post PRK you can evaluate how deep it is to plan if the retreatment is being possible then epithelium masks so much the real amplitude of the stromal irregularities the OCT tells you in these cases we have 250 micron of epithelium so if you measure the full pachymetry you say 468 very good but if you evaluate by OCT you can understand that is another example for masking the real amplitude here is 148 micron the edema post-facul mucification here patient with edema and you see that the endothelium is detached close to the wound so this is a bubble of air can help Decement irregularities advanced cone in the advanced keratocone sometimes you have the endothelium detachment the acute cones show it by the detachment of the endothelium so usually those cases were treated with steroids but now that we can see we have to evaluate if which case is steroid which case is a bubble of air to immediately fix the acute cone Intax tells you how deep you was for example in this case was too superficial so you should expect the erosion and extrusion and the dry eye finally the dry eye the dry eye is very well judged by the epithelial mapping because it becomes inner so if you have your therapy you can check how efficient how successful was this patient moved from 50 micron to 58 it seems to me so there is many area where you can use an OCT based tomographer in comparison to standard tomography because now you can see inside of the tissue and separate which is the three components stroma four components stroma endothelium basal membrane and epithelium while in the shineflug basal system is one entity you very you